Amici carissimi del Tino Carugati, bene ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa mia lezione di pianoforte leggero, credo che sia la 267, non lo so, ho perso francamente conto. Pianoforte leggero oggi magari un attimino, è un pochino più pesante del solito. L'argomento infatti è il Turn Around, allora un argomento che logicamente appartiene specialmente a certi generi musicali, piuttosto che ad altri. Voglio dire che è una situazione armonica e non solo, perché poi nella realtà comprende ritmo, può comprendere una melodia, e che appunto fa parte più dell'ambiente, della sonorità, del jazz, del blues, piuttosto che magari del rock o del pop, anche se è possibile trovare questa situazione anche in questi generi di musica, magari più raramente. Gioco Forza questo avviene perché nel blues e nel rock e nel jazz, perdonate, è la fada padrone, l'improvvisazione. Quindi il Turn Around alla fine che cos'è? Ebbene è una frase, è un periodo per meglio dire, è un periodo piuttosto breve, a volte può essere anche di una sola battuta, di una sola misura, che viene a inserirsi in un brano tra una frase ed un'altra, quasi a collegarle. Turn Around significa poi, alla fine, girare intorno. E girare intorno a che cosa? Nella fattispece? Invece al centro tonale, nel senso che noi siamo in un brano in Do, sviluppiamo una frase, una strofa, dirò meglio, per esempio, per fare un esempio, una strofa in Do. Bene, a questa strofa in Do fa seguito un'altra strofa in Do. E per Do intendo dire che la strofa termina con un Do e riprende ancora con un Do. Allora, è chiaro che occorre qualcosa che vada a spezzare queste due frasi, perché appunto terminano e cominciano con lo stesso accordo, con la stessa armonia. Ecco quindi è l'inserimento di questo che appunto chiamato Turn Around. Non so se ci sia, se esista una traduzione in italiano, ma in milanese sicuramente si potrebbe dire Gire Ginturna. Comunque, torniamo al al frasario più corretto e magari andando alla tastiera e a vedere più concretamente di che cosa stiamo parlando. Allora, come dicevo, è una situazione armonica, soprattutto, che appartiene al jazz, al blues soprattutto, ma possiamo, per esempio, e direi proprio di partire così, potrebbe anche avvenire in un brano pop. Io, per esempio, sto suonando, ci sente, sì. Sto suonando, per esempio, sei grande, 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 come te, sei grande, solamente tu. È il termine di grande, grande di minor, che termina appunto in Do. La strofa successiva ricomincia anche in Do. Vedo tutte quante le mie amiche sono tranquille più di me, no? Quindi, il termine della strofa precedente e l'inizio di questa sono entrambe in Do. Quindi, tra i due Do, noi possiamo inserire, logicamente questo è un brano di musica leggera, di musica pop, quindi non andremo a sofisticare troppo le armonie da inserire. Quello lo faremo magari in un brano jazz, sicuramente, anzi. Quindi, io sono in questa situazione di un Sol undicesimo nella fattispecie, che appunto mi riporta al Do. Sei grande, 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 come te, sei grande. E poi chiudo il mio accordo di dominante è il Sol. Solamente tu e vado in Do. Uno, due, tre, qua, sei, da, 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 da. Qui inizierebbe la strofa successiva. Quindi, per andare a riempire questo Do, che resta lì, e per due misure, noi andiamo a inventarci qualcosa. Ripeto, siamo in un ambito pop, quindi potremmo fare una cosa di questo genere. Sei grande, 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 come te, sei grande solamente tu. È sufficiente che io metta un Re minore, per esempio, e faccia una progressione secondo, quinto, primo, che mi toglie dalla rimanere così staticamente in Do e io vedo tutte quante le mie amiche. E quindi il brano riprende. Ora, ho fatto l'esempio di grande, grande, che nella realtà io vedo tutte quante, ne modula. E non ricordo esattamente se il brano consti anche di una, di due frasi che viaggiano sullo stesso centrotonale. Poco importa. È un esempio, è un esempio didattico, ma i brani potrebbero essere tanti. A me è venuto in mente sinceramente questo. Quindi, ritornando a questo esempio è, noi siamo, ripeto, su un Sol dobbiamo andare in Do e, una volta giunti sul Do, potrei mettere anche una sostituzione di Tritano, eh? Cioè io metto un Re minore, poi metto una Re bemolle, settima, con la quinta bemolle, che mi fa, riapro da in Do, da 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 da, eccetera eccetera. Ma potrei fare anche un'altra cosa. Sei grande, 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 come te, sei grande solamente tu. Io qui vado a fare, in pratica, un giro armonico, che poi è la struttura più classica del turnaround, anche nel blues e nel jazz, no? Io sono arrivato in Do, e faccio un Do da prima, quindi un La, settima, settima, quinta, diesis, possiamo mettere le alterazioni che vogliamo, ripeto, senza esagerare, perché trattasi di un brano è di musica leggera, quindi potrebbero andare bene, senz'altro, un Do. In pratica, io vado a inserire un accordo in più rispetto a quello che ho fatto prima. Chiaro che potrei anche fare una cosa di questo genere. Sei grande, 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 come te, sei grande solamente tu. Io vedo tutte quante. Però, attenzione, perché il brano suona così. Va proprio cadere sul Do, eh? La melodia. E sapete quanto sia importante la melodia in un brano? È lei che guida l'armonia, le va, in qualche modo, dietro. Quindi, finendo, finendo con un Do, io non posso partire con un Mi minore. Eh? O lo intendo come un Do con il Mi al basso. Allora posso fare questa progressione a scendere, eh? Nella frattispecie ho suonato un Do con il Mi al basso, quindi un Mi bemolle settima, un Re minore e un Re bemolle settima, in modo che il mio basso va a scendere. E, così facendo, io utilizzo questo turnaround, ripeto, per andare a colmare un vuoto, che altrimenti si creerebbe. Evidentemente, questo turnaround, per essere, può essere ancora o più ricco, o anche meno ricco. Io posso fare una cosa di questo genere. Sei grande, 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 come te, sei grande, solamente tu. Vado in Do, metto un Sol undicesimo, piuttosto che un Sol tredicesimo, quindi la dominante del Do, ma il Do è ancora il centro tonale, è che avevamo prima, quindi potrebbe anche essere, questa è la soluzione senz'altro più semplice. Poi, 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 magari metto un Sol tredicesima. E con una tredicesima bemolle, giusto per dargli un po' di colore, ma io potrei anche rimanere sul mio Sol undicesimo. Io vedo tutte quante le mie amiche. Ripeto, magari questo brano poi modula da subito, non ricordo, ma è un esempio che vuole essere nient'altro che preso a prestito per fare un esempio, una lezione didattica. Allora dicevo, va bene, questo è un brano pop, ma sicuramente che la fanno da padroni relativamente al turnaround sono senz'altro il blues, il jazz, ma anche il rock naturalmente, ma io sapete che di rock me ne occupo molto poco. E quindi che cosa succede per esempio in un giro di blues, in un brano blues? Bene, allora sappiamo tutti che il blues è la, come dire, la sequenza di 12 battute, quando hai un blues in 12 battute, ma questa è la situazione più classica, che vede l'alternanza, lo sappiamo, di tre accordi di settimo. E allora? Io adesso lo vado ad eseguire nella sua forma più semplice. Io sono adesso sulla undicesima misura, che prevede che io stia in Do, un'altra misura, per poi riprendere il conteggio. Uno, due, tre, quarta misura, quinta, sesta, settima, no, ho sbagliato col conteggio, devo rifare da capo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ecco undicesimo, dodici, e il mio giro riprende. Una volta arrivati sull'undicesima misura, molti brani blues fanno semplicemente questa cosa. Arrivano in Do, mettono un Sol e io ad esempio sto facendo adesso un giro di blues in Do, quindi è sufficiente mettere un Sol per riprendere il nostro blues. Ma possiamo, lo spiegai già nella lezione per alto dedicata proprio al blues, come queste due ultime misure possono costituire un vero e proprio turn around. Vale a dire, noi ci possiamo costruire, non voglio dire l'infinito, ma veramente ci siamo vicini, perché io una volta giunto sul Do sempre utilizzando la progressione 1, 6, 2, 5, cioè in pratica il giro armonico, io posso, una volta giunto sul Do, mettere un La, un La alterato, quindi in questo caso con la quinta diesima, un Re, un Re tredicesima, per esempio. In pratica io vado ad utilizzare, siamo in Do, delle dominanti secondarie, il La, il Re, il Sol no, perché sappiamo che sul quinto grado è proprio il Sol, abbiamo l'accordo di dominante, quindi può assumere i vari colori disparati. Però, per esempio, nel blues sappiamo anche che, proprio sull'undicesima misura, noi possiamo cadere, non sul Do, per esempio, ma anche su un Mi, che ci consentirà di fare questo. Invece che il Do, siamo soli, non abbiamo melodie, stiamo magari improvvisando, quindi una volta giunti sull'undicesima misura, sulla penultima misura, invece di un Do, noi andiamo a mettere un Mi minore, che già, in qualche modo, vorrebbe essere preparatorio del La, infatti ci può stare, ma il nostro Mi può dare origine, per esempio, ad una progressione, come abbiamo, la stessa che abbiamo visto prima in Grande Grande, che vede un Mi minore, un Mi bemolle settima, un Re minore settima e un Re bemolle settima, magari con la quinta bemolle, se vogliamo. Vanno bene tutte le tensioni, perché siamo in un altro ambito, non siamo più nel Pop, siamo nel Blues, quindi possiamo anche sbizzarrirci nel metterle queste tensioni. Ma ripeto, i giri potrebbero essere tanti, potrebbe, io potrei arrivare sul mio Do, sempre nell'undicesima misura del mio Blues, e fare questo. Per esempio, Do, vado su Mi bemolle, un La bemolle, un Re bemolle, ancora, e un Do. Il mio Blues, chiaro, è che ogni volta è giocoforza diverso, è sempre ricco, non è mai monotono. Dicevo Blues, dicevamo anche, logicamente, è il Jazz. Diciamo che questo turnaround, molto spesso, può anche servire per lanciare un solo, no? Nel senso che io, restiamo nel Blues, io arrivo sulla mia undicesima misura, beh, magari lo prendo... Lo facciamo dall'inizio, dai. Cioè, io mi avvalgo del vuoto. creato dall'undicesima e della dodicesima misura, in questo caso non suonerà nulla, e parto con una frase adeguata, logicamente, al brusere. In questo caso io ho usato le note di una scala brusere. Anche quando improvvisiamo possiamo sfruttare comunque le armonie di un turnaround. Chiaro che siccome i bassi, relativamente ai turnaround, possono non essere sempre quelli, o noi siamo da soli, va bene, allora non si pone nessun tipo di problema, ma se stiamo suonando in una band, anche in un trio, il bassista deve essere uno molto scalto e capire subito quello che ho intenzione di fare, perché non sempre, restando e facendo un discorso in Do, non sempre le toni che suono La, Sol, Do, ma avete visto che possono essere Mi, Mi bemolle, Mi bemolle, La bemolle, Re bemolle, quindi un bassista deve essere, deve avere l'orecchio allenato e appena arrivato sull'undicesima misura domandarsi che cosa diamine starà venendo in mente al pianista in quel momento ed adeguare le sue toniche al discorso che viene fatto a livello improvvisativo. Nel jazz la cosa non è diversa, cambia soltanto lo stile e magari il linguaggio che andiamo ad usare. Nel jazz, per esempio, se noi prendiamo un brano come And, Miss, Be, Heaven, no? La strofa di And, Miss, Be, Heaven, termina qua e termina con un Do, nonché riprende con un Do, quindi è il classico esempio in cui un Turnaround ci sta, al solito, come il calcio sui Machiadori, nel senso che noi... Scusate... Eccoci arrivati. E' chiaro che qui noi andiamo, contrariamente a prima, in grande grande, a suonare un Mi. Quindi due sono le possibilità. O iniziamo il nostro Turnaround dal Do, ma anche dal Mi minore. Se lo iniziamo dal Do, potremo... Per esempio fare una cosa di questo genere. Mettiamo un accordo diminuito, visto che restiamo con l'accordo diminuito nel clima, proposto da And, Miss, Be, Heaven, che di accordi diminuiti ne propone molti. Quindi... E quindi andiamo avanti. La seconda volta, ecco, And, Miss, Be, Heaven, è un caso molto interessante per parlare di Turnaround. La volta dopo il brano fa... E va a concludere il suo discorso sul Do. L'inciso, però, non ricomincerà in Do, ma comincerà in La minore. E, difatti, il brano prevede che ci sia la sua dominante, il Mi. Mi. Eh? Quindi... ... ... ... ... ... ... e riprendo. Ok, allora, la seconda volta, siccome non si ritorna in Do, si atterra sul Do, si chiude la frase sul Do, come si era chiusa la precedente, ma non si andrà più in Do, ma in, appunto, La minore, il La minore è preceduto e occorre metterlo a questo Mi, non c'è più tempo per sviluppare, è chiaro che il tempo della misura si accorcia, e infatti nel piano originale viene proposta generalmente questa situazione, Do, Fa, ancora Do, per andare in Mi. Quindi questo turn around è, questo non possiamo considerare un turn around, perché fa parte veramente del del brano medesimo, che prevede proprio un Do, un Fa, un Mi per tornare in La. Un altro esempio potrebbe essere riferito a, per esempio, Take the A Train di Duke Ellington, ma ripeto, i brani jazz che presentano questa situazione sono veramente infinite. Take the A Train fa così. Ecco, giunti qua, la melodia suona così e si giunge su un Mi. Ora, contrariamente a quello che è avvenuto per grande grande, qui terminiamo con un Mi e quindi l'armonia che possiamo abbinarle può essere quella di un Do, e quindi realizzare un giro armonico. In pratica io vado a suonare un Do sesta, un La settima, magari un Re settima, questo Mi e se ne va, eh. E io qui vado a realizzare un turn around che potrebbe anche partire da un Mi minore e partendo da un Mi minore io posso realizzare, a seguire un Mi bemolle diminuito, un Re minore settima e un Re bemolle e settima. E il mio brano riprende. Ora, il brano, proprio come Enniswieven, nell'inciso, non presenta più un Do quale accordo iniziale. Quindi io, se è vero che atterro a livello di strofa sul Do, ma io ricomincerò il mio discorso melodico, nonché poi improvvisativo, con un Fa, e lo faccio precedere da una classica progressione secondo primo. Quindi... e il mio brano riprende. Ora... Volendo, eh, come abbiamo visto prima nel giro di blues, volendo a questo punto iniziare l'improvisazione, andiamo proprio a cominciare il nostro discorso solistico proprio dal vuoto che crea, come dire, naturalmente lo svolgimento di Take the A Train. Io ho a disposizione due misure per fare... e qui il brano, naturalmente, riprende. Cioè io, per capirci bene, lo faccio anche lentamente, siamo... rifaccio tutta, diciamo, la seconda B. due, tre, quattro, un, due, tre, quattro. Io ho queste due misure di vuoto da colmare e, appunto, le colmo iniziando il mio discorso improvvisativo. Rivediamo. L'improvisazione il turnaround mi si ripropone, poi, nel momento in cui vado a improvvisare. E se sono solo, appunto, metto le armonie che voglio io. Devo sempre colmare quelle due misure. Quindi vado a fare un turnaround, in questo caso molto libero, perché sto improvvisando, non ho più vincoli melodici ai quali attenermi. E quindi vado a proporre un giro armonico, piuttosto che una discesa di basso, piuttosto che le armonie che mi vengono in mente, che mi piacciono di più. Oh, naturalmente, queste due misure possono essere colmate da quattro accordi, ma anche da due accordi, eh? anche semplicemente da un sol. Per esempio, se io vado a suonare... la donna... ecco, la mia... la ricordi più il no? Blu brossa, ecco. Termina su un do minore. Che, infatti, generalmente, è seguito da un sol, la sua dominante, perché poi riprende la frase. Blu brossa, poi, addirittura, è proprio un loop, è un giro che... è una frase, è un chorus che va a ripetersi, quindi... io sto arrivato su questo do. Posso fare, per esempio, un, due... qui la misura è una sola. Quindi, una volta aggiunto sul mi, sul do minore, perdono, il mi perché lo prendo così, ma in realtà il basso è questo, eh. Prendiamolo così che è più chiaro, è un do minore nono. Io posso fare questa cosa, mettere un re semi diminuito, un sol con la settima con la quinta diesis e riportarmi sul mio do, dove ripeterò la mia frase o cominciamo l'improvvisazione. Ma, per esempio, io potrei aggiungere, certo, qui il tempo, il ritmo è abbastanza incalzante, il tempo non è molto, quindi potrei anche fare, aggiungere, visto che poi andrò su un re semi diminuito, una cosa di questo genere, oppure addirittura a trasformare il mio re semi diminuito in un re settimo con la nona diesis, seguito dal sol, logicamente, e a chiudere il mio do. Quindi potrei fare una cosa del genere. a chiudere il mio do. Quindi potrei aggiungere il mio do. Quindi potrei aggiungere il mio do. eccetera eccetera eccetera. Può partire proprio una impro da quello che è, in effetti, un turn around, anche in questo brano. Bene, direi che ho detto tutto quello che dovevo dire, credo. Turn around, quindi è grande libertà espressiva e comunque un momento importante dei nostri brani blues, jazz, ma ripeto, anche nel rock si trovano. Questo girare intorno, abbiamo capito, a che cosa ha la tonalità d'impianto poi alla fine, perché finiamo con un certo accordo, ricominciamo con un certo accordo, bene, giriamo proprio intorno a quell'accordo. Non andremo a fare, a suonare quattro accordi che con questa tonalità non hanno nulla a che vedere, anzi, devono essere assolutamente congrui per realizzare un buon turn around. Bene amici carissimi, spero di essere stato sufficientemente chiaro e comunque vi ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima lesson di pianoforte leggero. Un abbraccio con il Tino Carro Gatti. Grazie. Grazie.